amici delle spettatori buongiorno e ben trovati con la quotidiana rassegna stampa oggi domenica 22 di novembre 2020 vediamo assieme i principali quotidiani del giorno ieri abbiamo ieri sera avuto in trasmissione parecchi ospiti abbiamo parlato di sanità anzi ma la sanità e di queste logiche diaboliche del governo che opera con le gabbie salariali e anche quelle sanitarie e poi con una politica dello stop in voce apro e riparto apro dieci giorni e quello che intende fare il governo infatti per natale eh aprire per consentire gli acquisti puoi chiudere puoi eh limitare come vedremo nel corso di questa rassegna stampa a sei posti a tavola eh sia a casa che nel ristorante insomma c'è tanta carne al fuoco ma noi vogliamo oggi aprire eh la nostra la segna stampa con questa notizia del pronto soccorso in prima linea al grande ospedale metropolitano di Reggio di Calabria eh tema che abbiamo affrontato anche ieri sera nel corso della trasmissione al quale erano presenti tra gli altri oltre a Klaus Davi e Ruben Scuria eh c'era anche Corrado Mollica eh Tommaso Iaria ma c'era anche il sindaco di Rocudi per Paolo Zavettieri presidente dell'Assemblea dei sindaci dell'area grecanica e eh eh Nino Iaria il primario di oncologia del Tiberio Evoli di merito di Porto Salve sia eh Iaria che ha eh per la verità per Paolo Zavettieri hanno eh messo in evidenza l'esigenza di rilanciare il Tiberio Evoli di merito di Porto Salve ed oggi ce lo ritroviamo l'appello in questo articolo qui si sta scherzando con il fuoco eh vediamo cosa ci riporta tutta pagina questo articolo questo allarme che arriva dal eh appunto del grande ospedale eh metropolitano di Reggio di Calabria questo allarme che però da giorni lo ha lanciato già Costarella lo hanno lanciato altri primari il eh pronto soccorso a Reggio di Calabria sta scoppiando e e però eh nessuno sente eh insomma il reparto covid quotidianamente sotto pressione risponde all'onda d'urto e c'è la testimonianza anche riportata in questa intervista eh intervista sulla cazzetta del Sud al responsabile Paolo Costantino il quale dice pronto soccorso in prima linea anti covid massima capienza però del grande ospedale metropolitano e di centocinquanta posti e quindi aspettiamo il picco dei contagi la prossima eh settimana e quindi eh aumentano eh gli accessi quotidianamente a pronti quotidianamente a pronto soccorso covid di Reggio di Calabria e anche questo insomma la fotografia di un ospedale di un ospedale eh che è un forte stress lavorativo e ci aspettiamo dice infatti eh il responsabile eh Paolo Costantino eh il picco la prossima settimana e il picco dei contagi la sensazione è è comunque quella di essere molto vicini. Allora solo qualche giorno fa spiega che 12 pazienti hanno bussato alla porta del pronto soccorso e di questi circa 7 sono risultati affetti da coronavirus e quindi c'è da fare un ragionamento perché l'organizzazione c'è ma non c'è personale c'è molta pressione in pratica l'Obi funziona l'Obi Covid in pratica funziona come medicina ad urgenza Covid quindi è un vero e proprio reparto di decenza per reggere l'onda d'urto che stiamo avendo 20 posti che possono aumentare di qualche unità ricorrendo per stretta necessità qualche barella che cerchiamo comunque di limitare al massimo. E quindi c'è questa stringente questione non si può tra l'altro trascurare tutte le altre malattie mentre si cerca di affrontare il Covid e qui c'è l'appello e la richiesta chiara i nuovi 40 posti a Gioia Tauro sicuramente rappresentano ossigeno puro nel momento più delicato che l'ospedale e la comunità regina sta vivendo ma ritengo, dice Costantino che l'ospedale sta vivendo questo delicato momento lo sta vivendo il popolo regino e ritengo che al di là della sinergia con il privato convenzionato vera strada da battere per decongestionare il grande ospedale metropolitano c'è quella di un contributo più sostanziale del territorio e quindi dice dopo Gioia Tauro aprire melito di Porto Salvo ecco è da tempo è dal mese di aprile che si chiede di decongestionare Reggio di Calabria e non solo te ricordi perché è sempre congestionato Reggio di Calabria e di aprire invece di potenziare merito di Porto Salvo richieste sempre in ascoltate ora non vengono solo dal territorio le richieste ma arrivano anche dal grande ospedale metropolitano di Reggio di Calabria che chiede aiuto che dice fra una settimana avremo molto probabilmente il picco e non sapremo come fare e quindi lancio un appello che mi auguro sia accolto anche se è troppo tardi sia ascoltato e potrebbe essere troppo tardi comunque accoglierlo oggi perché i tempi di preparare appunto i posti covid di attrezzarsi il personale che non c'è e quindi non si può lasciare la gente morire allora i cittadini su questo devono concentrarsi e devono protestare perché non può essere lasciato solo ai medici questo dramma del coronavirus che non può ognuno di noi pensare che non possa toccare a un nostro familiare o addirittura a noi stessi ed allora l'appello ecco perché abbiamo aperto con questa notizia rassegna stampa facciamo nostro l'appello del dottore Paolo Costantino responsabile del pronto soccorso anti covid di Reggio di Calabria perché e lo vogliamo mettere in evidenza perché qualcuno non continui a lavarsi le mani come Ponzio Pilato perché poi potrebbe anche rispondere a questo punto di strage perché di questo poi si tratta qui si parla già di vedere chi curare eventualmente perché perché finiti i posti poi si va sulle barelle e poi chi curare per prima quindi questo è l'urlo inascoltato la guerra si combatte con il personale e con le strutture i grandi ospedali metropolitano sperano che a forza di ripeterlo come la goccia che fa il buco nella pietra lo si capisca davvero noi ci crediamo poco perché che questi sono molto più duri delle pietre chi stagia il governo e l'ASP di Reggio di Calabria sono più duri delle pietre quindi caro dottore Costantino si prepari che ad affrontare da solo questa emergenza con quei pochi medici posti letto e personale che ha a questo punto non è sufficiente dice ancora trovare posti letto e aprire covid hospital prevedere più usca da parte dell'ASP serve il personale la guerra si vince con gli eserciti e non solo con i fucili e i carri armati ed è questo il vero problema che la sanità sta appagando oggi al nord e a sud quindi da nord a sud le assunzioni autorizzate per l'emergenza a tempo determinano il rischio determinato hanno determinato appunto e rischiano di non servire a nulla i segnali che arrivano quindi da grande ospedale metropolitano così come dall'ASP sono inequivocabili ed è difficile trovare medici e infermieri che accettino i carichi per tre mesi e da farsi chiedere alle persone con tutti i rischi che ci sono di andare a lavorare ma solo per tre mesi o se rinnovabili in caso di necessità allora si cerca fuori regione ma lo stesso stanno facendo altrove la campania generando una caccia a disponibilità sempre più limitata addirittura si sta cercando di far rientrare in servizi ci sono spot in televisione dei pensionati e si utilizzano anche gli studenti della facoltà di medicina quella facoltà che però rimane ancora a numero chiuso in Italia è una vergogna la proposta quindi del grande ospedale metropolitano avanzata anche ai tavoli tecnici in prefettura e la trasformazione dei posti in tempo indeterminato solo così gli incarichi dei prossimi ospedali diventerebbero appletibili tecnicamente sarebbe possibile anche con l'iniziale utilizzo di fondi covid per pagare stipendi ovviamente sempre un'autorizzazione dalla regione e dalla struttura commissariale quest'ultima oggi però paralizzata perché qui c'è a cercasi commissari e nel frattempo la goccia rischia di diventare una tempesta sempre più incontrollabile quindi abbiamo voluto questa mattina aprire con questo appello che arriva la grande ospedale metropolitano non è la prima volta che arriva che l'ospedale lancia il grande ospedale metropolitano con i suoi medici primari e responsabili lancia questo SOS e come dire sto in mezzo al mare sto affondando lancio l'SOS tutti lo ricevono tutti lo ascoltano ma nessuno interviene e quindi se si aspetta di affondare beh a questo punto dobbiamo mandare in galera gli schettini cioè i capitani non della nave ma quelli che invece non sono intervenuti e quindi devono rispondere per mancato soccorso alle chiamate costanti da mesi e da settimane all'SOS lanciato da medici infermieri e dirigenti del pronto soccorso di reggio di Calabria e dicevano ma perché non riaprite merito e questa è la domanda che ci poniamo ma torneremo su questo argomento anche noi anche perché trasmettiamo da merito di Portosalvo e quindi cercheremo in tutti i modi anche noi di essere da fungolo e di far sentire chi avrebbe bisogno di un apparecchio di un amplifon probabilmente oppure ha perso quei poteri cognitivi e allora bisogna farlo curare da qualche medico bene lasciamo la casetta del sud per un attimo andiamo invece alle altre notizie andiamo al quotidiano del sud Caprecon a crotone flagellato crotone d'arma al tempo evacuate cento famiglie preoccupa il piume esero la regione chiederà lo stato di calamità ci sono disagi su strade e anche su ferrovie poi il coronavirus in Calabria lieve miglioramento sono 425 nuovi contaggi ma si registrano ancora 4 decenni e poi per il maltempo crolla un muro nella zona storica chiesa di San Marco a Corigliano Rossano andiamo ancora avanti baricato in casa per evitare il controllo blitz dei carabinieri di Reggio di Calabria lo vediamo il blitz che è avvenuto ieri eccolo qui i carabinieri che sono intervenuti ieri sera a Reggio Calabria in zona sbarre perché un uomo si era baricato all'interno di un'abitazione per evitare un controllo il blitz è stato condotto dai militari intervenuti per identificare l'uomo un giovane straniero che lo hanno soccorso per profonda ferita lacerò contusa al volto conseguenza di una possibile precedente colluttazione i militari dell'arma erano giunti nel popoloso quartiere dopo gli approfondimenti conseguente a ricoveri in ospedale di un altro giovane nell'est Europa si era presentato al pronto soccorso con Felice Dataglio gli investigatori stanno ora verificando con il coordinamento della procura che due eventi siano collegati due ombre non sono comunque in pericolo di vita fino a qui insomma il quotidiano del sud che ci riporta anche il coronavirus in Calabria a Mileto continuano a crescere di contagi ci sono altri otto e non i casi superano addirittura quota a 50 poi la ragazza scomparsa nel Cosentino che è stata ritrovata in un burrone dopo ore di ricerche ed ancora andiamo alla Messia molestava una minorenne non potrà più avvicinarsi alla vicina cioè le misure che vengono date non ti puoi avvicinare poi se si avvicina la domanda la lasciamo a chi adotta queste semplici misure anche a volte ridicole poi morra alla 7 quando dai fastidio viene legittimato e c'è la dura replica di Salvini insomma morra che continua così a fare danni sulla appunto non riesce a capire insomma che più parla e più danni combina andiamo alla prima pagina della casetta del sud vediamoci l'apertura in Calabria ospedali da terapia intensiva il coronavirus il sindacato dei medici la Nau che denuncia dati disastrosi intanto in altri 45 contagiate 4 vittime emergenza posti in etto in mezzo d'Italia spostamenti tra regioni possibili e comunque per Natale intanto il rischio di diffusione dell'epidemia non si è attenuato non si è attenuato nonostante l'illusione e l'indice di contagio in Calo è stata la stessa cabina di regia a mettere in guardia anche perché la regione Calabria è una delle due regioni d'Italia l'Arte e l'Umbria incapace di fornire un dato attendibile sulla valutazione delle sorveglianze del resto la situazione sta nei numeri che svelano un virus capace di muoversi liberamente nel territorio a causa pure dell'inedeguatezza del sistema di tracciamento e di testamento che non è più in grado di seguirne le tracce ieri altre 425 contagi e 4 morti con altre 11 ricoveri nelle licenze mediche sempre più sotto stress e quindi c'è da intervenire qui c'è un articolo di fondo di Giuseppe Lorè commissario cercasi sanificare la sanità a profili giusti pure alla periferia del basso impero quindi anche questo articolo che riporta la storia dei tre commissari bruciati in modo grottesco un presidente del consiglio regionale domiciliari che riporta un quadro veramente buio della Calabria e poi un senatore che insomma costretto che finisce su tutte le prime pagine dei giornali insomma questa via Crucis sui social al bar per quelli aperti insomma da parrucchiere e un tiro a bersaglio per dare sfogo alla rabbia il territorio come quello della Calabria c'è un'occasione in occasione delle ultime regionali che nel 26 gennaio non un secolo fa che ha portato alle urne appena il 46% degli aventi diritto al voto e quindi la disaffezione dei calabresi cresce la forbice si allarga e ora il covid ha messo veramente a nudo le carenze appunto i tagli dei viaggi della speranza che hanno portato ai viaggi della speranza e quindi al turismo sanitario per il nord senza neanche ripenare poi il debito che piuttosto invece di diminuire continua a lievitare nel buco nero poi delle asp di reggio e di cosenza e qui insomma c'è da intervenire c'è da evitare questi errori la sfida di oggi con le regionali più che all'orizzonte e mettere da parte quelle perverse diverse logiche dell'interesse personale e andare invece a vedere quali sono gli interessi dei calabresi e dopo il carosello di Gaff tra Conticelli Zuccatelli Gaudio servono senso delle istituzioni capacità manageriali allora i giusti profili persino nella periferia del basso Iorio ci sono spetta la classe ora dirigente individuali lo abbiamo già detto anche di sera noi nel corso della trasmissione in chiusura e subito per i beni dei calabresi che chiedono una sanità poi non chiedono nulla ma una sanità degna di un nome e un governo che riapre il dossier Calabria dopo troppo anni di assenza poi il caso morra morra la RAI centrodestra e l'antimafio dopo le esternalizzazioni infelici l'esponente pentastellato butta altra benzina sul fuoco perché intanto c'è stata la censura della RAI che non ha fatto partecipare alla trasmissione di titolo quinto quindi che apre un altro inedito capitolo e poi c'è la giornata di ieri nella quale morra ha evitato di pronunciare esplicite scuse per le parole su Iole Santelli che anche i parlamentari i 5 estelli poi hanno tutti definito infelice insomma l'uscita di morra il presidente dell'antimafia intervistato sulla 7 ha prima detto di essere stato travisato poi ha tentato di contrattaccare e ha detto quando dai fastidio alla mafia e all'andranca allora bisogna sporcare infangare e deregittimare parole che hanno fatto infuriare ancora di più il centro destra torniamo al nubrifraggio di crotone poi torneremo ancora sul coronavirus gravi disagi anche nell'area urbana di Corigliano e Rossano crotone in ginocchio 100 famiglie sono state evacuate vedete qui in centro abitato i soccorritori i vigili del fuoco che devono andare insomma col canotto a così a salvare le persone o a prestare soccorso a Gioia Tauro scade la proroga per l'indapuratore la preoccupazione dei lavoratori e poi assedere l'isena ecologica non è ancora utilizzabile e comune quindi smentito mentre facciamo lo sport andiamo agli occhielli di apertura alla DDA di Catanzaro che voti a Tallini con l'aiuto degli amici Q3 vediamo in questo riquadro il presidente come ormai l'ex presidente del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini a Reggio in base da rifiuti tra i chiami dell'Unione Europea e le proteste in piazza c'è un degrado nel rione Marconi insomma tutti i giorni c'è questa viene messo in evidenza il degrado e questa insostenibile situazione dei rifiuti a Reggio di Calabria e se pareggio le rivelazioni dai magistrati della DDA di un collaboratore di giustizia cioè Didier Carlo il quale ha detto che le regole del pizzo non lascia scampo è che infatti lui stesso pagava il pizzo alla cosca di Stefano ha detto infatti pagavo pure io insomma affermazioni veramente gravissime e andiamo ai contagi da coronavirus qui vediamo i contagi Carlo ma gli ospedali hanno riaperto i reparti insomma i reparti sono vicini al collasso nelle ultime 24 ore quindi quando diciamo cadono i contagi attenzione che c'è la difficoltà di tracciamento da noi di rilevamento quindi della trasmissione anche dei dati insomma siamo ultimi anche in questo anche se per il presidente della regione Calabria la Calabria avendo la lettera C e la terza in ordine alfabetico beh noi non riusciamo a comprendere cosa c'è l'ordine alfabetico ma sappiamo caro Spirli che la Calabria è ultima perché non riesce neppure a dare i dati nelle ultime 24 ore abbiamo 37.767 nuovi positivi al covid e 692 vittime il ministro Speranza richiama alla prudenza primi segnali ma dobbiamo ancora resistere poi l'intervento insulte e polemiche di sereventamento cittadini comunicazione pubblica in cortocircuito e questo per la verità perché resta anche di rendere la battaglia contro il virus ancora più complessa perché qui insomma sta accadendo che si trascura anche la parte dell'informazione ai cittadini poi conta la rovescia sui vaccini che va accettante del comitato tecnico scientifico a Crisanti la distribuzione delle prime dosi alla fine di gennaio test 3 in traccia anche l'influenza della polmonite dei bambini andiamo ancora avanti c'è verso un rinvio delle cartelle iniziano le audizioni sulla legge di bilancio arrivano altri 8 miliardi di scostamento di bilancio qui continuiamo a spostare a scostare anzi il bilancio a danno delle future generazioni senza però risolvere i problemi monito dei commercialisti i quali dicono anomalo disapplicare gli isa e sulla riforma del sistema fiscale inserite risorse anche inconsistenti la compindustria teme la recessione intanto a Natale ci sarà un sì allo shopping a Natale rientri possibili nelle anche regioni di origine quindi attenzione c'è la possibilità che chi sta in un'altra regione per Natale possa tornare a casa poi non so come si considerà questo fatto che a tavola non si può stare in più di sei persone ma qui c'è veramente molta confusione poi federazione del centro-destra passo avanti Berlusconi e Salvini pronti a unire le forze anche in Parlamento ancora cauda però Giorgia Meloni insomma da una parte il Cavaliere sta in maggioranza dall'altra continua a stare in minoranza bravo il Cavaliere che alla sua età riesce ancora a fare dell'equilibrista cioè stare sul filo da una parte e dall'altra senza cadere ancora la Calabria da Bollino Rosso i dati sanitari disastrosi sul coronavirus c'è il report del sindacato dei vicenti medici a Nau sull'attuale capacità del sistema di salute bastano pochi ricoveri per mettere in ginocchio ora la Calabria come vedete la Calabria è un mondo che galleggia dentro un virus chiaramente fuori controllo ecco perché non abbiamo detto sta galleggiando e gli lancia l'SOS ma qui non arriva né il commissario né qualcuno insomma per salvare la Calabria a partire dai medici dagli infermieri per finire ai cittadini e quindi qualcuno deve rispondere non riusciamo a comprendere perché la magistratura interviene per arrestare Salvini per arrestare scusate il presidente del consiglio regionale Tallini dopo sei anni si ritiene di intervenire fra sei anni per così eventualmente arrestare per omicidio colposo per strage di innocenti chi non sta in questo momento adottando tutte le misure necessarie e lasciando la Calabria sguarnita e sfornita anche del responsabile del covid e della sanità in Calabria se si aspetta sei anni probabilmente fra sei anni ci saranno pochi calabresi perché moriremo tutti di virus qui vediamo a Cosenza è pronto soccorso dell'annunziata che registra un numero elevato di accessi quindi se Reggio piange Cosenza non ride e poi il decreto Calabria però da da martedì alla Camera questo provvedimento c'è da 12 giorni non ancora il commissario quindi prende quota l'idea tronca l'ex prefetto di Milano ha avvistato ieri con Sileri Magorno del PD dice coinvolgere i sindaci della gestione o siamo pronti a non votare prende c'è forse una scadenza entro martedì che limite temporale massimo per la nomina del nuovo commissario alla sanità Calabria c'è un è un ruolo importante ma purtroppo ieri addirittura Francesco Paolo Tronca dovrebbe essere in pole position è un indizio questo perché è stato avvistato quest'ex prefetto qui si cercano gli ex prefetti gli ex coronelli gli ex calabinieri gli ex finanzieri ex prefetto di Milano e ieri è stato a pranzo a Roma con il vice ministro per Paolo Sileri già commissario straordinario di Roma capitale dal 1 novembre 2015 a giugno 2016 e membro del consiglio di stato fino a 2017 la scadenza comunque di martedì è buttata lì a caso coincide infatti con l'approdo alla Camera del decreto Calabria che prevede il prolungamento del commissariamento in attesa della conversione il decreto legge è comunque già operativo e sconta 12 giorni di vacazio del commissario della dalla pubblicazione in casetta ufficiale dello scorso 10 novembre certo non un bel primato in emergenza covid sono tanti gli emendamenti annunciati sul decreto Calabria alcuni sono nell'ottica di un maggiore coinvolgimento dei sindaci che giovedì scorso hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi e che ieri hanno avuto un incontro da remoto con il vice presidente del nazionale del lanci Ciro Bonaiuto il confronto si è concentrato soprattutto sulle soluzioni su cui bisognerà lavorare già nelle prossime settimane insomma vedremo cosa accadrà e cosa ci sarà nel decreto Calabria con gli emendamenti e quali risultati appunto hanno ottenuto i sindaci che hanno protestato a Roma avantiere poi l'ordine dei medici che dice qui serve una task force insomma ma è possibile che i medici chiamano 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 e che nessuno risponde il governo martedì prossimo insomma dopo dieci giorni di vacazio è veramente grave non riusciamo a comprendere neppure dove il capo dello Stato Mattarella che non interviene non riusciamo a capire a che serve un capo dello Stato che serve forse probabilmente soltanto per parate pubbliche quando c'è da mettere qualche corone probabilmente molto probabilmente quanto prima dovrà venire a mettere corone in giro per la Calabria oggi è sbagliato il modello dell'uomo solo al comando se si coinvolgano le competenze questa è la presa di posizione infatti dei cinque consigli provinciali della Calabria e poi ospedali da campo Vibo rilancia contro Opea l'Aspo valuta altre alternative si punta pure a potenziare lo Iazzolino con aumento di 28 posti e poi il caso di Nicola Morra dal caso Morra al caso Rai c'è una bufera nella bufera per il ritiro dell'invito al presidente dell'antimafia che doveva partecipare al programma di titolo 15 l'apertura l'altra sera la conduttrice ha detto che il consiglio della Rai la direzione aveva deciso la redazione di non farlo partecipare perché aveva utilizzato quelle pesanti parole su Iole Santelli il Movimento 5 Stelle ora parla di censura l'esponente poi in tastellato dice di essere stato travisato il centro-destra invece ne chiede le dimissioni poi dopo lo scivolone che offende la Calabria il tentativo di contrattaccare il partiere ha detto se dai fastidio l'ho detto in intervista alla Sette dai fastidio alla mafia poi aiuti per il sisma anche a chi lo vide solo in tv il 92enne ex sindaco di Nusco Avellino ricorda le polemiche sul terremoto dell'Irpinia l'ex segretario della DC e l'ex presidente del consiglio fa il punto di 40 anni dopo del 23 novembre 1980 la ricostruzione è costata 75 miliardi di euro ancora a Torino indagato con l'adolescente adoscavo a bambini su web mentre dall'Africa in barcone alla Sardegna in barca al vela storia al lieto fine per un migrante scappato dal Niger è diventato un bravissimo Kripp quando è arrivato a Cagliari non sapeva neanche notare dal barcone fa scappare per scappare dal suo paese in barca a vela ancora andiamo avanti andiamo in una Ferrara anziana muore cadendo dalle scale a fiumicino noleggio auto con autista scoperse addirittura false licenze e poi sui fondi neri della Lega parla Luca Sostegni fu il prestanome gli amici lo chiamavano il Tosca per via delle predipatezze che una ventina di anni fa importava dalla Toscana e vendeva a Milano andiamo avanti lasciamo per un attimo la gazzetta andiamo a vedere il messaggero punto it che apre con virus capodanno con il coprifuoco piano del governo per blindare il Natale quindi di PCM shopping cosa si può fare ecco quando dicevamo anche ieri sera in trasmissione è una sanità che funziona in provvedimento di un governo che funziona a colori queste sono logiche diaboliche che ci ricordano gli anni settembre quando c'era questa politica del semaforo cioè lo stop and go utilizzato in quel periodo da molti paesi occidentali che cercavano di domare l'inflazione senza però frenare troppo l'economia quello che sta accadendo oggi è qualcosa di simile perché qui si cerca di far ripartire l'economia quindi si ferma si mette il semaforo verde si fa ripartire si fanno le riaperture proprio per Natale per consentire lo shopping e poi si arriverà questa boccazza di ossigeno per l'economia e poi si chiuderà di nuovo ci scatterà di nuovo il semaforo rosso perché intanto il virus aumenterà ma siamo sicuri che questa sia la strada giusta perché oppure questo rischiamo di rendere così inutili vani tutti i tentativi tutti i sacrifici fatti fino ad oggi dai cittadini qui ci vuole una politica definitiva e seria Antonelli del comitato tecnico scientifico infatti parla di rischio terzo ondata con il picco delle influenze e Lazio vaccino antinfluenzali intanto fermati in dogana non sono sicuri Natale a tavola con il massimo in sei a casa sia a casa che in ristorante quindi si fanno rientrare anche le persone dalle altre regioni si faranno rientrare per Natale però poi non si possono ospitare a casa se la famiglia più numerosa bisogna vedere quanti tavoli e quante stanze servono intanto nel Veneto ci sono 3570 nuovi contagi e 67 morti anche la Sicilia è nella bufera delle terapie intensive il manager postiletto finiamo dicono in zona rossa il ministro invia gli ispettori in ass c'è qui invece di inviare personale sanitario infermieri medici attrezzature e posti letto si inviano gli ispettori e i NAS mentre Zampa dice a Natale no a Cenoni ma possibile dire che anche sugli spostamenti andiamo al messaggero cartaceo capodanno con i coprifuoco i confini comunali chiusi e stoppa la circolazione alle 21 dell'antivigilia di Natale al 10 di gennaio quindi andiamo lasceremo aperto una settimana dei giorni e poi chiuderemo proprio durante le feste il piano questo di questo governo dell'esecutivo anche per le donneggiarle contro la risalita del contagio durante le feste intanto c'è il rapporto shock dei dirigenti medici il collasso delle parti negli ospedali 19 regioni sono senza posti letto attenzione tutta Italia quindi stanno esaurendosi posti letto di terapia intensiva dai noi non li abbiamo mai avuti e quindi dove ci manderanno probabilmente utilizzeranno i barconi che arrivano con i migranti e ci manderanno in Libia o dall'altra parte l'autostrada intanto approva l'accordo sulle tariffe proposte dal governo andiamo avanti sempre sul messaggero vediamo qui ogni volta succede dobbiamo riaprire la pagina lo facciamo subito dicevamo sul messaggero andiamo al coprifuoco e ai tamponi piano del governo per blindare il Natale il governo dice sia gli acquisti ma no ai cenoni quindi comprate ma poi non mangiate per le feste nuova stretta a casa alle 21 l'appello a fare i test rapidi prima di vedersi e questa potrebbe essere una buona idea dalle 23 la chiusura dei confini comunali anche se l'Italia dovesse essere tutta gialla ci viene da chiedere se uno ha un figlio o una figlia sposante abita in un comune vicino se chiudi il i confini comunali cioè tu apri prima le regioni ci può uscire dei giorni ma la sera della cena di Natale ci guasti la cena perché dopo aver comprato i viveri non ci fanno mangiare assieme cioè alle 21 tutti a casa quindi significa e alle 23 poi dal giorno dal 23 quindi il giorno prima di Natale ci chiudi i confini comunali e quindi non si può in realtà passare il giorno di Natale per faccio l'esempio pratico da Condofuri a merito da merito da Condofuri da Condofuri a Saline Montebello perché sono territori diversi insomma non riusciamo a comprendere questa logica ma ci adeguiamo insomma non dobbiamo essere noi possiamo soltanto nella legittima fare una legittima critica a queste scelte intanto ci sono morti sono 692 appena 10 ricoveri in terapia intensiva speranza è prudente chi campa di speranza di sperato muore ma non è dice un liberi tutti poi non ha spostamenti tra comuni anche nelle zone più sicure poi a tavola come vedete le scene in famiglia in sei sia a casa che al ristorante nei locali iglesi limitati di vieto di organizzare feste e di affittare sale per eventi private poi le restrizioni per le feste l'intervizio a Massimo Antonelli del comitato tecnico scientifico solo così l'RT scenderà dice con le restrizioni direttore della rianimazione a Gemelli le regole funzionano meglio non rischiare no a Cenoni e piazze piene a Capodanno vanno evitati gli errori insomma fatti quest'estate a metà gennaio il picco influenzale se il virus sarà ancora persistente i fronti soccorso tolleranno pieni sono intanto è arrivata la neve la neve ai tempi del virus vista il numero chiuso che mette a posto in funivia lo sci cerca di salvarsi con l'emergenza covid rischio anche la stagione invernale così nelle zone turistiche le regioni vogliono aprire l'otto dicembre e domani il comitato tecnico scientifico esaminerà le linee guida mascherine obbligatorie intanto sugli impianti sportivi poi ancora ristori per altre 100 mila ma molti aspettano ancora qui si parla sempre di ristori ma non arrivano quelli già promessi da 15 giorni da domani secondo ondata di bonifici perché aveva già usufruito degli aiuti dai benefici restano esclusi i fornitori delle attività interessate dalle chiusure ci sono altri fondi per il 2020 stanziati nel nuovo decreto ristoro dir 400 ai comuni per le misure urgenti di solidarietà alimentare poi 1450 rimborsi alle attività sospese per il passaggio dalla regione in zona rossa o arancione poi centro invece al fondo d'emergenza per comprare e distribuire farmaci anti covid da due giorni possono fare domanda anche le aziende per giunte a giugno per loro è attesa c'è un'attesa del meno 15 giorni poi le richieste insomma abbi e commercialisti chiedono norme NPL più fondi dopo richiamo al governo da parte dei commercialisti e dell'abbi mentre i primi cioè i commercialisti indicano come sufficienti le risorse ipotizzate dal governo per la riforma fiscale e chiedono di disapplicare gli ISA cioè gli indici di affidabilità economica considerando la natura anomala dell'andamento economico l'associazione bancaria invece sottolinea il peso sulla crescita delle nuove misure restrittive e chiede norme sul bank per gestire i crediti deteriorati ancora avanti la rianimazione le regole in terapia intensiva rianimazione precedenza a chi può sopravvivere e l'età non è l'unico criterio quindi si sta arrivando a terapie intensive esaurite e si dovrà i medici dovranno decidere chi curare c'è un protocollo che viene pubblicato sul sito dell'istituto superiore della sanità vale soltanto nei casi di sovraffollamento e comunque in ogni ospedale o il centro di valutazione conterà anche la volontà poi dei singoli malati quindi il presidente degli anestesisti dice stiamo facendo ogni sforzo per garantire cure adeguate comunque per tutti intanto il comitato tecnico scientifico Bacchetta Crisanti parlando di parole inaccettabili il valore dice il vaccino sarà assicurito insomma qui il virologo aveva detto che non si sarebbe vaccinato senza certezze Galli lo difende e ci ha travisato durante la riunione del comitato è stata persino valutata l'ipotesi poi scartata di una denuncia per procurato allarme quindi pensate insomma se un esperto che dice che ha paura del vaccino poi salto di posti letto extra covid Lombardia e Piemonte sono in crisi i medici i reparti di medicina interna sono a collasso 19 le regioni in difficoltà picco nord ovest nell'accia emergenza ma meno grave la migliore friule e anche il molise qui il video shock autopsia Napoli del uomo che era morto nel bagno del Cardarelli illegale non è stato trattato con la ventilazione dopo le polemiche l'accusa l'autopsia Giuseppe Cantarupo l'uomo di 48 anni che è morto lo abbiamo visto in televisione insomma in tutti i servizi all'interno dei bagni del Cardarelli di Napoli ora stanno stanno l'avvocato della famiglia ha evidenziato gravi responsabilità dei medici che non avrebbero sottoposto l'uomo alla ventilazione necessaria vediamo ancora la bufera invece su i grillini che sono nella bufera per le parole shock di Morra sulla Santelli gli oncologi può lavorare anche chi ha un tumore l'avvocato Iannelli vicepresidente dell'IMAC il vero problema dice la scarsa conoscenza il professore Cognetti e Tortola sono molti pazienti che superano la malattia Morra prende esempio da cotticelli colpito perché dopo a stilio alla mafia insomma quando c'è qualcosa che non va c'è sempre il paravento un drangheto mafia e Vegas scrive a Mattarella il nostro diritto a un futuro dopo le frasi del senatore Movimento 5 Stelle Morra la presidente della Calabria Santelli deceduta per un cancro l'ex presidente Conso va invitato una lettera a Mattarella nella speranza che Mattarella risponda ma risponderà probabilmente lui è un segretario solo per cortesi istituzionale in quella barletta aspetta 11 ore per il ricovero Antonella muore di covid a 41 anni eccole come sta andando il covid sta uccidendo per l'incapacità di una classe politica e dirigente di affrontare di fare la guerra quindi attenzione non uscite se vi ammalate rischiate di morire lasciamo stare le guerre tra partito andiamo avanti con le ultime notizie anche sul giornale chiudiamo con il messaggero il vaccino per tutti i corona spunta l'arma antipandemia e non c'è solo l'idea del vaccino contro questo coronavirus per evitare nuove epidemie esiste comunque un progetto più ampio poi il Natale possibile ritero che mascoltiamoci il capodanno morre oramai non ha più freni con i problemi della cirrosi pure la vittima fa pure la vittima do fastidio dice alla mafia ed ancora ancora soldi ai parlamentari ma agli infermieri solo i bricioli ancora avanti la memoria del ministro ex azolina che era chiamata cazzolina e zaia che smonta di luca da passà dice zaia ha nottata torniamo alla gazzetta del sud andiamo rapidissimamente avanti andiamo a vedere la pagina economica pochi prestiti allarme usura al sud questa è un'altra notizia che deve farci riflettere dice giustamente Gratteri se lo stato è debole se non c'è la possibilità di sviluppo di lavoro e di occupazione qui diventa forte l'andrangheta e si va con i prestiti se non li fanno le banche le fanno gli usurai localizzate soprattutto al centro nord le domande per i mutui garantiti dallo stato al sud invece non ci danno nulla squilibrio nell'erogazione un terzo va solo a Lombardia ed Emilia il resto come al solito le briciole andranno al sud non ci rimane appunto che rivolgersi agli usurai ancora dal primo di dicembre la Sardegna sarà ancora più isola la Tirreni ha annunciato la sospensione di alcuni collegamenti marittimi a rischio sono 500 posti di lavoro i sindacati sono già pronti a mobilitarsi c'è scontro con il governo sulla proroga della convenzione vediamo ancora i bonus fischi e provvidenza io lavoro che sono gli eventi diritto per avere questi bonus per la decontribuzione a sud fino al 31 dicembre la proroga diversamente degli imposti e dei contributi che va al 30 aprile del 2021 e 21 e poi la ristrutturazione di rizzi a chiarimenti fiscali ma c'è anche l'importante la Cassazione con una sentenza che modifica il regime di presunzioni legali a favore del fisco insomma l'amministrazione finanziaria all'onore di provare che i prelevamenti ingiustificati sul conto corretto bancario e non annotati nelle scritture contabili sono stati utilizzati dal libro professionista per acquisti relenti alla produzione del reddito conseguendone ricavi a precisare la Cassazione andiamo ancora avanti andiamo a vedere la pagina della cultura e dello spettacolo ogni tanto parliamo anche di cose positive la Bassi Italia ci salverà vedrete a colloquio con il giornalista e scrittore Mimmo Nunnari sul suo ultimo soffrendente libro Elogio del Meridione come latitudine dello spirito e riserva di bellezza e cultura mortificate da pessime gestioni connivenze ed anche ingiustizie poi Bocelli streaming da Parma queste due persone eccezionali di ritrovamento a Pompei di due sorpresi uccisi dall'eruzione l'uomo con mantello esso giovane schiavo questa una veramente una scoperta molto importante e ce lo riporta infatti cultura e spettacoli andiamo avanti lasciamo lo sport andiamo alle notizie che arrivano dalla Calabria vediamoci gli approfondimenti mandiamo a Tallini il presidente che si è dovuto dimettere del consiglio regionale o comunque l'avrebbero defenestrato gli appunti di provvedimento richiesta a Farma Business della DDA che coinvolge il politico Catanzarete che è finito ai domiciliari quegli amici dell'area crotonese contattati per trovare i voti a Tallini la CGL parte civile nei concluci di venti che scatoliranno da questa indagine il consiglio regionale sarà sostituito da Frank Santa Croce a guidare Laura Luca Morrone di Fratelli d'Italia poi scontro nel patto civico aprile non lavoriamo per la candidatura di Tansi si anima il dibattito in vista delle elezioni regionali qui vediamo lo scrittore Calabrese che ricostrisce i primi contatti con l'ex capo della protezione civile poi l'agricoltura e tecnologia ci sono nuove risorse regionali in campo 2 milioni di euro del PSR da destinare alle aziende previste procedure snella l'insegna della sburocratizzazione mentre Crotone abbiamo visto in apertura maltempo in Calabria l'ubifragio a Crotone quartieri evacuati a distanza di 24 anni dalla tragedia alluvione in cui persero la vita 6 persone torna l'incubo della devastazione stade trasformate in fiumo di fango e detriti auto sommerse dall'acqua negozi aziende e ginocchio dichiarazione sciocca della presidenza del Crotone calcio costretti a scendere in campo eravamo turbati poi Corigliano Rossano rivive la paura del 2015 in un belato abitazione anche a Schiavone a cui vediamo la situazione in questa immagine città sott'acqua al centro di Crotone allagato e i vigili del fuoco hanno effettuato una centinaio di interventi poi l'isola di Capo Rizzuto che sprofonda vorrà agire in piazza Aldomoro imbarcazioni affondate e campi completamente allagati con diretti chiede immediati interventi il comune ha attivato i soccorsi e messo in sicurezza alcune decine di famiglie e ancora andiamo da Crotone a Reggio di Calabria sempre il solito problema della spazzatura i riflettori riaccesi da un'interpellanza per il rifiuto di strada l'Unione Europea richiama la Regione sul caso Reggio la Commissione aspetta ancora che sia inviato l'aggiornamento dei programmi per la gestione del degrado con taglie di spazzatura qui ne vediamo questa volta Crotone Marconi poi la battaglia delle associazioni più raccolte e berotari una petizione contro l'emergenza senza fine cioè quella della spazzatura in città a Reggio di Calabria ma per la verità non è solo Reggio a soffrire ancora disagi idrici perdite di servizi sempre nella zona Reggio Sud ed ancora questo è il vertice catanzarese la strada e riabilitare Reggio risultano per l'ok alla mozione di reo acqua pubblica il Comune inizi a recuperare i soldi dalla Sorical secondo i calcoli effettuati e pubblicati a suo tempo il Comune aspetterebbe un conguaglio da 14 a 18 milioni di euro e Minicucci consiglia un bagno di realtà poi Castolina consegnati i lavori della foresta al Vallauri interventi della città metropolitana ancora Reggio di Calabria niente processione per la festa per la Madonna di Reggio di Calabria ma si rinnovano fede e devozione per la padrona i portatori quindi si stringono attorno alla sacrificio ieri la partecipata cerimonia in cattedrale a Reggio di Calabria qui vediamo un'immagine di repertorio ci allunga la permanenza della generata effigia al Duomo di Reggio di Calabria poi Villa Aurora ha proclamato lo stato di agitazione la giornata mondiale della prematurità onore alle lotte dei piccoli guerrieri per la speciale occasione la Hollis Heracle ha promosso un dibattito su Facebook ancora avanti vediamo a vedere altre notizie sul sempre su Reggio la legge del pizzo senza sconti De Carlo che ha detto anch'io pagavo il pizzo e poi abbiamo già visto questo articolo l'SOS lanciato dal GOM il grande ospedale metropolitano di Reggio di Calabria mandateci medici mandateci i soccorsi insomma aprite melito decongestionate il grande ospedale metropolitano oppure non ce la faremo lungo inascoltato e la guerra dicono si combatte con il personale non solo con i carri armati poi da consigliere comunale positivo tamponi a tappeto da domani l'aspede eseguirà gli esami su personali i componenti dell'assise della seduta di venerdì consiglio comunale se c'è un convegno dell'airpark ma che dei poti fanno il punto su ricoveri e malattie ed ancora i risultati dei test online soprattutto in tempo reale sinergia questa tra l'ordine dei medici e il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria ancora sempre su reggio il coronavirus lo screening a tappeto con emergenze abis polistena il comune acquista 700 tamponi per l'indagine epidemiologica dal 27 novembre a 15 di dicembre a 5 fronti più 17 intanto il sindaco conia con i test antigenici confermati dall'ast poi a Molocchio ci sono oltre 30 positivi alla casa di riposo san vincenzo sono 23 ospiti della struttura su 24 e 8 dipendenti mentre a tale nuovo flash mob all'ospedale eccellenza da riattivare manifestazione promossa dall'associazione città della piana ed ancora palmi respira palmi respira bagnara e trend non si inverte continua il miglioramento 128 positivi e 139 persone in quarantena 76 sono negativizzati resta comunque alto il numero di casi legati al focolaio a scuola un nuovo contagio anche a scilla come vedete insomma dappertutto c'è veramente questa emergenza covid ancora avanti andiamo a quest'altra notizia sull'Ocri niente più ospedale da campo decisivo e sopra luogo effettuato ieri pomeriggio dalla protezione civile ospiterà ci farà in un centro nello stabile degli edifici e ospiterà 40 posti netto potrebbe essere utilizzato anche a fine pandemia insomma questo è l'edificio da recuperare il centro covid che dovrebbe essere allestito nella palazzina all'estrema destra dell'ospedale Locri poi i clienti forestieri asporto impossibile ammamola le ragioni di una scelta ristoranti tutti chiusi e qua roccella forse dell'ordine mandata al macello presenti agli sbarchi dei migranti ma niente tamponi Brugnano della federazione sindacale di polizia pretendiamo dice rispetto a Montebello prima rata Tari della Tari posticipata al 31 di aprile e poi a Monta San Giovanni altri 4 positivi infettata un'intera famiglia la situazione contagi avanti al dialogo ad ardore sull'iniziativa del comune scuole test gratuito garantito a un genitore per alunno insomma ognuno si arrancia come può poi sulla tirrenica perché già pagamento a Villa San Giovanni servono soltanto a fare cassa Scilla Bagnaracara per i sindaci incontrano il commissario della Sorical e qua Palmi anniversario della morte di Francesco Cile a Palmi rendo omaggio a Francesco Cile a Villa San Giovanni bollette passe nodo e latari si pensa ad una concessione con l'associazione dei consumatori per la verità dovremmo farla anche a merito di Porto Salvo e poi a Gioia Tauro clausole di salvaguardia per la gestione del depuratore scade il 21 di dicembre l'affidamento dell'impianto di Gioia Tauro alla Ianno già prorogato la preoccupazione è che la società subentrante assuma altre maestranze Tario Nova l'assessore a Montereone ha quindi tempi imposti dai vincoli la polemica sul personale e pianta organica ma non risponde alla sua assenza in giunta e poi a Rosano l'impegno continuo dei giovani volontari della protezione civile andiamo ancora avanti andiamo sulla Ionica qui vediamo l'ex sindaco Piedro Puda di Siderno sotto inchiesta con altre quattro persone ora è indagato anche per corruzione elettorale nella operazione Canadian Cornation ad Antonimina maggioranza Pietroburgo abbandona il gruppo quando fu invece seduta consigliare disertata ora l'opposizione al consiglio comunale spiega perché dice non c'era sicurezza Paino dice norme anticovid ignorate avevo chiesto l'annullamento del consiglio comunale lo vediamo in questa immagine Domenico Paino ma torneremo con un editoriale su questa giustificazione dell'assenza in consiglio comunale Ancora a San Luca incontro all'ambasciata del Marocco vicepresidente dei consigliosi Baggio a Roma Roccaforti comunale riscia all'anno dei greci a benestare giornata dell'albero in diretta didattica apparizzi di casa maus pazienza e amore anniversario della fondazione numero 36 in tempi di covid barone difficile tenere dentro i nostri pazienti cerchiamo dice di distrarli bene andiamo ancora siamo quasi in chiusura della rassegna stampa andiamo a Caolonia Princi Will contro il comune assunzione dei precari si doveva fare di più i contratti sono mortificanti per gli dipendenti e non garantiscono la produttività mentre a Siderno cancello chiuso vedete l'isola ecologica di contratti pellegrini attendere l'effettuazione di alcuni lavori per garantire la sicurezza degli utenti era uno scherzo l'isola ecologica non può essere insomma fruibile così almeno risulta dai soprallumni luoghi e poi il turismo e grandi eventi per sostenere il commercio il primo appuntamento dello sportello della candidata sindaco Fracomeni ricevuto sollecitazioni a maggior impegno per i piccoli esercenti e poi Caroccella dall'Asd Ionica Fussal fornitura di testi in dono per le persone in difficoltà lasciamo anche la gazzetta andiamo a vedere invece Dago Spia Dago Spia che dice vediamo in questa immagine cari cittadini non contate un cazzo la democrazia esiste solo in teoria siamo ancora in piena aristocrazia solo che a influenzare le vite delle nazioni non è il sangue blu ma un potere invisibile che si nasconde dietro di paramento della competenza è un tecnico potere con cui stanto scienze e capitalismo hanno la pretesa di correggere il popolo i suoi avventamenti e le sue scelte elettorali in uno strato questo del libro l'ingranaggio del potere poi Conte la pacchia è finita Qualtiere e Conte hanno preparato le loro squadre per decidere come impiegare la cuccagna del recovery fund tagliando fuori Zinga Di Maio Renzi qui è nata l'idea dei partiti della maggioranza di sfanculare Conte e anche Qualtieri allargare i processi decisionali aprendo anche a Forza Italia in quest'ottica va letta la proposta di legge democratica per la riforma dall'intelligence che appunto è introdurre l'obbligo dell'autorità delegata Giuseppi dovrà mollare insomma la delega ai servizi segreti poi la chiamavano Cazzolina la ministra dell'istituzione ed ancora bozza da orbi tra verità e riformista Belpietro ogni giorno sceglie dal mazzo delle carte sulla fondazione Open una pagina a caso e la usa come bersaglio pubblicando nome e storie di persone per bene che sventuratamente sarebbero avvicinate negli anni a un'attività di Renzi o addirittura che avrebbero preso parte a una cena con parlamentari vicini a Renzi non si parla di imputati né di indagati come nel caso di Grasso e di Borghese e qui quest'altra topi in groppa al Cavaliere che piace al centro-destra e al centro-sinistra ma c'è quest'altro articolo che vedete Palamara come può Davide Ermini vicepresidente del consiglio superiore della magistratura giudicare gli accusanti di una vicenda in cui anche il suo nome ricorre più volte contro l'esponenza del partito democratico parte un siruro da Stefano Fava una dei magistrati sotto accusa per il caso Palamara il PM romano nel suo atto di riusazione accusa Ermini di non avere dato seguito al suo esposto in cui riferiva dei rapporti di affari con alcuni acquisiti inquisiti del fratello di Giuseppe Pignatone allora procuratore della Repubblica di Roma insomma e poi qui vediamo tutti in gruppo al Cavaliere il Cavaliere ora fa comodo a tutti e quindi va bene lo vedete messo in mezzo tra Di Maio e Conte bravo Cavaliere auguri per le due televisioni mentre a Napoli c'è De Magistrisi che dice a Napoli c'è un imbecille che litiga da solo e fa sciacallaggio per farsi pubblicità per nascondere la sua nullità amministrativa bene con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi domenica 22 di novembre 2020 ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a domani con la consueta rassegna stampa augurandovi buona domenica buon proseguimento di giornata arrivederci ciao a tutti